Tessere è un progetto fortemente voluto dai servizi sociali dell'Unione della Marca Occidentale, Loria, Resana, Riese Pio X e Vede Lago e le cooperative sociali Una Casa per l'Uomo, Chiricù e L'Incontro, che da anni lavorano in questa comunità territoriale per promuovere e valorizzare una protezione sociale diffusa con particolare cura per le persone in condizioni di vulnerabilità. Per la prima volta, insomma, in maniera strutturata e all'interno di un progetto, tutte le realtà che hanno a che fare con le politiche sociali del nostro quattro territorio, dei quattro comuni dell'Unione della Marca Occidentale, inizieranno a dialogare ma a costruire i veri e propri progetti verso delle nuove politiche di welfare. Questo progetto mi piace molto perché è un progetto che aggrega sia comuni sia cooperative ed è la strada giusta per affrontare il futuro, perché il futuro sarà la partenza degli ambiti. È chiaro che l'Ulss sarà sempre a fianco in questo passaggio, ma i veri attori saranno proprio i comuni. Quindi questo progetto è un anticipo di quello che sarà il futuro. Il post-pandemia ha messo in evidenza fragilità storiche, nuove situazioni di disagio e un tessuto territoriale a volte frammentato e disgregato che ha richiesto ai vari attori che si occupano di welfare di collaborare e di avviare percorsi concreti di cittadinanza. Attraverso proprio dei servizi e delle risposte complesse che mettono in campo proprio professionalità diverse e tutte le risorse che un territorio può esprimere.